Il gruppo dei 24 vuole sfidare l'avversario 1 contro 1, la stoppata di Laval, giocatore in alto con 70 per cento da 2. Il passaggio per Logan, quindi la palla per Tyson, stoppato, che giocata di Ante! La classe è tecnica, ovviamente gliel'abbiamo davvero male augurata, dall'altra parte stoppatona di Ocaro White. Ecco, segnali di vita di White, quel recupero su l'imbazzo di attacco, quella toccata prima e adesso... C'è Spanghero in palleggio, evidentemente anche qui Spanghero da fiato a Forrai che deve intervenire in difesa, stoppata siderale, magica di Cusin nei confronti di Pascolo, Grant 1 contro 1 contro Ferguson, altra stoppata di Cusin, altra stoppata di Cusin, tre stoppate di fila di Marco Cusin. Qui uno strepitoso recupero difensivo con riapertura in contropiede di un Justin Archer. Nelle mani di Tomasini, la stoppata di Archie, è la seconda partita, poi recupera addirittura palla, da per Ossin Freeman che va a prendersi anche lui, la stoppata, mi dice a terra Young. Guardate sul parquet anche Azel, che pensava forse l'abbia finito la sua partita, Ibi che non riesce inizialmente a chiudere il pick and roll, stoppato dalla Ray, prima che Curry fallisca, un tiro ampiamente alla sua portata, molto facile, più facile da sbagliare che da segnare alla Ray, forse con la giocata della partita, quanto è andato su per stoppare Ibi. La Virtus.Roma Egem verrà Stepcevic, il miglior tiratore dei liberi di tutto il campionato, va dentro Stepcevic, il suo tentativo viene cancellato dalla stoppata di Michael Eric. È uscito da Iowa, è la prima stagione in Europa che si oppone il clamoroso di Argus. Credo fosse Tony, quando Tony Mitchell ti prende il tempo è una cosa davvero pazzesca. Taylor, dietro a schiena invece no, la verde e Cinciarini invece dovrà andare, fino in fondo invece no, Taylor! Una stoppata clamorosa, 4 secondi!